Hai mai sentito parlare di Big Mama, la giovane rapper che sta facendo impazzire il mondo della musica? Se non l'hai fatto, è arrivato il momento di conoscerla meglio. Big Mama, il cui vero nome è Marianna Mammone, è una cantautrice classe 2000 che ha iniziato a scrivere i suoi primi brani a soli 13 anni. Da allora, non ha mai smesso di stupire il pubblico con il suo talento e la sua determinazione. Nata nella provincia di Avellino, Big Mama ha deciso di trasferirsi a Milano nel 2018 per studiare al Politecnico di Milano. È qui che ha iniziato a far parlare di sé, pubblicando le sue prime canzoni nel 2016 e debuttando con il suo primo EP, Next Big Thing, nel 2022. Ma il vero successo arriva nel 2023, quando duetta con Elodie al Festival di Sanremo, e si fa notare da tutti. Quest'anno, Big Mama ha preso parte a Sanremo 2024 tra i big in gara con il brano, La rabbia non ti basta. Un traguardo importante per una giovane artista che ha già tanto da raccontare, e tanto da dare al pubblico. Ma la strada per arrivare fin qui non è stata facile. Big Mama ha dovuto affrontare una difficile infanzia segnata da bullismo e insulti. Ha raccontato di come ogni giorno della sua infanzia e adolescenza fosse pieno di parole di odio, di come fosse costretta a sopportare anni di bullismo verbale e fisico. Ma è proprio attraverso la musica che ha trovato la forza di rinascere e di riscattarsi. Oggi, Big Mama non è solo una talentuosa rapper, ma anche una paladina di importanti messaggi sociali, soprattutto per i giovani. Grazie alla sua esperienza personale, è diventata un punto di riferimento per la body positivity e l'accettazione di se stessi. La sua musica è un modo per esprimere le sue emozioni e per trasmettere un messaggio di speranza a chi, come lei, ha dovuto affrontare momenti difficili. La carriera di Big Mama continua a crescere e a sorprendere tutti. Ogni nuovo progetto è un'occasione per far emergere il suo talento e per condividere con il pubblico le sue emozioni più profonde. E chissà quali saranno le prossime tappe della sua straordinaria carriera. Se non conoscevi ancora Big Mama, è arrivato il momento di ascoltare la sua musica e lasciarti conquistare dal suo talento. Non te ne pentirai, Big Mama è pronta a stupirti e a farti emozionare con le sue canzoni e la sua incredibile storia di rinascita e determinazione.